Il sud a nord è 160 km l'est totale è 110 km per capire che chiede la grandezza 160 x 110 km e anche il tempio dei tamburi l'abbiamo visto siamo al tempio dei lama il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ok c'è un'organizzazione fantastica in questa vacanza agita su 100 siamo in 7 la tua rischio è pericolosa il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info questa è la parte moderna di Pechino il rattacielo che devono ancora finire qualcosa di gigantesco 600 metri farà sembra di essere a Manhattan non sono mai stato a Manhattan